Non c'è pace per la statua dell'angelo della parrocchia di Cilavenia, che è più volte finita nel mierino dei vandali. In passato era stata imbrattata con la vernice spray e presa sassate. Stavolta non si capisce che cosa sia successo nel pomeriggio di martedì. Sta di fatto che la statua, realizzata in terracotta, risulta danneggiata ancora, all'altezza del braccio destro, lo stesso che era stato vandalizzato nel maggio scorso. Stando a quanto si apprende dalle ricostruzioni, potrebbe però non esserci dietro la bravata di qualche incivile, per nulla rispettoso dei luoghi e degli oggetti sacri. Ma sembrerebbe che, probabilmente anche a causa del freddo che si è registrato negli ultimi giorni, si sia verificato un distacco tra alcune parti della statua e alcuni pezzi del braccio destro siano così caduti per terra. Si possono infatti notare alcuni cocci che sono stati raccolti in un secchio. Toccherà quindi a qualche artigiano volenteroso riattaccare i pezzi caduti, ma nel frattempo prevale il giallo su quanto sia successo martedì alla statua dell'angelo della parrocchia di Cilavenia. Il monumento si trova in una zona non molto frequentata, alle spalle della chiesa e della casa parrocchiale, in un vicolo che porta verso Largo Marconi, la strada del municipio di Cilavenia. Il posto è facilmente accessibile, non essendoci protezioni che lo separino dal resto della strada.